Le squadre mobili della polizia di Pesaro e di Forlì nel pomeriggio di lunedì hanno stretto il cerchio in merito ad una serie di furti avvenuti all'interno di garage condominali, tra cui quelli di strada Borgeria a Pesaro, nell'ultimo mese. Gli agenti hanno perquisito alcuni immobili situati a Fano, Gradara e Forlì, ritrovando una trentina di biciclette rubate. Tutte le proprietà intercettate che contenevano il bottino erano intestate ad un trentenne pregiudicato di origini albanesi che sotto falso nome, spacciandosi per un inesistente medico dell'ospedale Bufalini di Forlì, vendeva online quanto rubato. Oltre a diverse biciclette sono stati ritrovati anche due monopattini elettrici e altri oggetti come un casco griffato Valentino Rossi. Alcune vittime del furto subito, riconoscendo in rete il proprio mezzo, hanno immediatamente comunicato la segnalazione alle forze dell'ordine che si sono messe sulle tracce del malvivente. A seguito di una tempestiva indagine svolta tra gli uffici investigativi di Pesaro e Forlì, il destinatario della perquisizione si ritrovava attualmente indagato per il reato di ricettazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. Per agevolare il riconoscimento e la restituzione di quanto ritrovato, le questure di Pesaro e Forlì pubblicheranno nelle prossime ore sulle proprie pagine Facebook il materiale sequestrato.